Aventi diritto 51, votanti 35 quindi la votazione è valida, Anna Debella voti 33, nulla 1, Bonomo 1. Oggi come Fisto Cispe Monte abbiamo svolto il nostro Consiglio Generale e all'interno dei lavori era prevista un'integrazione di segreteria che abbiamo fatto e ho fatto devo dire veramente molto volentieri nella persona di Anna Debella. Allora vi ringrazio a tutti per essere qui presenti, vi ringrazio anche l'USP Mimoro Bianco e Bruna dell'USR. Dai segretari ho imparato diverse cose, infatti io li ringrazio perché sono grata, perché loro mi hanno sempre protetto, mi hanno insegnato, mi hanno diciamo anche coccolato. Lo che Anna in questi anni si viede un prodotto del bidaglio, la persona che si è caratterizzata, ma quello che mi ha sempre colpito è la sua umiltà, una persona che ascolta. È un valore aggiunto per la federazione, per tutti voi, per tutti noi, quindi grazie Anna per questa disponibilità, questo impegno e questa passione che ci rendi. Io ho avuto modo di interfacciarmi, di collaborare con Anna in alcune occasioni da quando sono in segreteria regionale e devo dire, ma non per farlo sbio di altre legate all'aviazione, che si è sempre dimostrato davvero una persona umile, come diceva prima qualcuno, e impressionante. Anna è una nostra grande risorsa e abbiamo fatto questo inserimento con l'obiettivo in prospettiva puro di ringiovanire il canto della nostra età media a livello di segreteria, di andare verso un ragionamento di rinnovamento della nostra struttura. Ti sono grata e spero di sbagliare il mio volo al meglio. Grazie. Grazie.